Music, sì, music, sì, music Perché l'intera scena è un problema importante Pensate a una città che per 50 anni è stata votata per 50 anni Manca soltanto l'operazione del Consiglio Comunale Ho conosciuto anche a loro il problema della casa Pensate a una città che per 50 anni ci sono non soltanto queste 43 famiglie Ma tantissime altre famiglie di teglia cinesi che non hanno ancora una casa qua E' giusto che questa cosa abbia avuto da parte nostra un'accelerazione La scena è stata fatta per 50 anni La scena è stata fatta per 50 anni Cercheremo di superare tutti quanti gli ostacoli possibili Immaginabili sia politici che democratici Ma questo sacro santo diritto non lo vogliamo negare assolutamente a nessuno Lei questa sera ha detto siamo addirittura di arrivo Che cosa manca a loro? Manca soltanto l'operazione del Consiglio Comunale Music Non sono da un'accelerazione del Consiglio Comunale That will conclude this evening's entertainment That will conclude this evening's entertainment Tessi neopro benimportante Tessi neopro benimportante Tessi neopro benimportante Tessi neopro benimportante That will conclude this evening's entertainment Tessi neopro benimportante Attent the studio Tessi neopro benimportante Tessi neopro benотри Grazie a tutti. Grazie a tutti.